www.feyyaz.com Eh, che buon'ora, ma tu furmi non sei stato! Ma come a tu so stato? Stai a giocare, no? Ma vedi, vissi che giocano a carte poi è cominciato a piove io gli ho detto aspetta che smette e che regge ma smette e non ha smesso e mi sono fraccicato tutto quando mi viene a casa Ma frega adesso, arrivi fraccicato sta comendo cucino per la miseria, dà te una rastugata Tu figa che è malattia Sarete qui, adesso ti faccio una bella minestrina, calda calda cucite per me taglio uno Eh? La minestrina? non è che un po' le tue pettuccine non la minestrina ma la minestrina eh mamma mia eh vediamo quello che dice questo giornale oggi afficcia apposta la televisione eh che almeno sentimo che notizia io telegiornale Beh mi senti che io telegiornale lo so, sarebbe le stesse notizie che ti hanno tutte queste malefatte dei visti politicanti, i larroni che stanno rubando ma pure ve l'ho vista più e poi sempre queste cose storie di calciatori se vengono pure il messaggio campo gli allenatori che vengono il giocatore bella roba bella roba le corna si eh hai ragione vabbè però ecco se non appicciamo la televisione non lo senti e non si sente vola manco una mosca almeno fanno anche compagnia no? eh eh vabbè eh 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 non si vede questa televisione ma che sta dice eh se è tutto grigio te addomani su uno canale ma non è che tu niente niente no? con lo spollerà forse mi smostro io fino all'antenna ma che sta dice io lo spollerato una settimana fa ieri si vede andando beh eh ecco te non si vede niente manco lo canale eh eh e come facevamo mo ecco senza questa televisione questa ci fa compagnia eh ah tu le mossa occa mo sai che è mo chiamo Tonino devo prendere giusta ma sì sì e almeno mi faccio dire qualcosa sì 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 beh eh chiama e non chiama eh eh voi se me ne ricordo il numero io il telefono mi sa dove li chiamo io ma aspetta po' circa questa io gli elenco gli elenco eh madonna questi telefoni amone erano tanto buoni i telefoni una volta che a quando un figlio io mi do l'entraio bucio eh con questi non mi si capisce più niente sono cichi i numeri già un piveto i tasti sono ancora più cichi eh ma aspetta fa vedere come era il numero eh ecchi eh eh cinque e sei e sei eh eh pronto? 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 pronto che mi sta Tonino? è Tonino oh Tonino sì sono Vittorio Vittorio alla Ciavatola sì sì ha capito dico ecco la televisione che non funziona ma è picciato? picciato eh picciato picciato se è per questo ma non si vede niente ogni canale è tutto grigio la nebbia dopo eh non hai capito lo dico che è? io ho switchato Vittorio e che hai visto sui scioffe? Sto passando, aveva ricevuto la notte di percorso la vittimola e che cosa fa? ma è tanto vecchio sulle visore ma come vecchio Don Tonino? ho un anno, 7, 8 anni che io sono comprato e la mia cosa è che la vittima? io che? io te che? io te vittor ma io te vittor senti po' Vittor ma non è che puoi venire tu a vedere lo che è? Vittor, adesso lo sai vittor per comprare la televisione per le tue cose eh Doni? io sono un buono pensionato a dove abbigliare i soldi per comprare la televisione? ho visto te conto come ho capito vittor, vittor vittor, vittor per le tue cose vittorate vabbè, ma allora vedi quando? vabbè, 3 minuti, vabbè, ti sono iniziato eh Rone? lo sai che io mi sono iniziato alba per gli orto? eh, mi sono iniziato qui allora da venire per le 10 vabbè, ti sono iniziato qui, ti sono iniziato a casa vabbè, ciao ciao, ciao questo se, no, non so se hai smorzato questo non li ho smorzati però io lo smorzo bene sì, sì, beh, certo però questo, due manchia solo questa che manchia ma se non vendano eh se vuoi sapere che ti hai detto Donino e che mi hai detto Donino? hai detto che stanno a mettere i miei 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 alle 10 e vedete che lo devo fare e lo devo comprare, io devo otto otto lei ha detto una cosa, una cosa così ma poi amico che me ne importa seppur non si vede la televisione tanto per quello che ci dice, non so sempre le stesse lo sa che c'è, direi, seppur la televisione non si vede per noi è la stessa cosa la sera, quanto che è? una sera ci andiamo agli cinema l'altra sera ci andiamo a chiudere e poi se piove ci facevano una partitella a carta due bicchieri, un cittadino e poi ci andiamo a fare un luogo di là e che mi fa vedere il luogo di là? è un cavallo morto a moglie non mi sembra mai niente non mi fa piacere se ci andiamo a te oh e poi tu che sarei del forza vostra dire camera, se no tutto quello che succede al camerino se ne sa per tagliacuzzo eh? allora, cari amici, la scenetta era così una cosa tanto per farci due risate comunque, in considerazione del fatto che per molte persone anziane spesso sole la televisione è l'unica grande compagnia allora, tutti coloro, tutti voi che siete in grado di aiutare queste persone a risolvere questo problema dubite, non cioè fatelo, aiutatelo aiutatevi a comprare il decoder aiutatevi, se è il caso, a prendere una nuova televisioncina aiutatevi a farvi spendere poco, soprattutto senza farsi spennare dai vari rivenditori perché voi siete molto più pratici e facciamo in modo che queste persone non si sentano più sole di quanto già lo sono diamo a loro le giuste informazioni e facciamo in modo che riescano a superare più brillantemente di noi lo switch off un saluto a tutti gli amici di Italia TV ciao ciao ciao